I sindaci oggi auditi dei comuni di Massadalbe e di Maiano hanno sostanzialmente confermato quelle che erano le nostre paure. L'apertura indiscriminata, l'utilizzo di cave per la riconversione in discariche vedrebbe un aggravarsi soprattutto in specificità territoriali come proprio quelle delle aree interne. Le cave possono essere utilizzate come discariche soprattutto ed esclusivamente quando si trovano in zona collinare, non certo quelle di pianura, per cui un'apertura come quella che vuole l'aggiunta nella riconversione delle cave terminate, la cui coltivazione è terminata, in discarica colpirebbe quasi esclusivamente le aree interne. Questo è in termini generali una cosa che non possiamo ammettere e che io non permetterò, ma anche in termini specifici è assurdo parlare di un progetto di legge per l'introduzione dell'economia circolare e poi invece come al solito trovare la norma nascosta che apre nuovamente a tutte le cave, non solo quelle presenti ma anche quelle future, la possibilità di evitare la rimessa in pristino ambientale con invece l'installazione di ulteriori discariche. Questo è inammissibile, è un comportamento miope che non abbiamo intenzione assolutamente di far proseguire nei lavori.